Ottobre è il mese missionario, un mese che pone l'attenzione sulle tante missioni che sono all'estero, tra cui anche quella di Africa Amica, che da vari anni si interessa alla Sierra Leone. Sì, noi siamo impegnati da molti anni in Sierra Leone, ormai sono circa 15 anni, e portiamo avanti una serie di progetti, soprattutto nel settore sanitario, ma anche nel campo sociale, anche in altri settori, anche dell'attività economica ultimamente. Stiamo proprio riproponendo in questi giorni un ulteriore progetto che rappresenta un po' la continuità di un progetto tutt'ora in essere, che riguarda la salute materno-infantile. Ma più in generale ci stiamo occupando di tante questioni. Ultimamente abbiamo abbracciato la causa di un bambino nato con una gravissima malformazione, che abbiamo portato in Italia, siamo riusciti a farlo operare dal bambino Gesù. È stata una cosa bellissima, una lunga degenza, ma tuttavia il bambino è ritornato a casa in condizioni normali e potrà vivere tranquillamente. Quindi, insomma, il nostro impegno è su tanti settori, ma soprattutto, ripeto, su quello sanitario e sociale che sono il centro delle nostre attenzioni. In un mondo sempre più globalizzato, dove le distanze sono realmente ravvicinate, sembra tuttavia che il tema della missione allontane ancora. Le missioni ci appaiono ancora come qualcosa di lontano, nonostante l'impegno di varie associazioni, nonostante la pubblicistica in questo senso. È come se i due mondi rappresentati dal mondo occidentale e il mondo delle missioni fossero in qualche modo lontane anche e nonostante la volontà dei singoli per tenerle vicine. È corretto questo? Ma non lo so se in linea generale si può condividere questo tipo di impostazione. Per quello che riguarda la nostra esperienza, noi abbiamo un rapporto straordinario con le missioni della realtà nella quale operiamo, nella città di Cabala. Lì ci sono i padri saveriani, anzi, uno dei due padri saveriani, proprio in questi giorni ad Arezzo, è stato nostro ospite, ha usufruito di alcune prestazioni sanitarie dei nostri medici volontari che vanno da lui. I missionari e le missioni in genere sono una frontiera importante, soprattutto per gli operatori come noi che andiamo in quelle realtà. E quindi, non lo so, io ho visto nelle missioni, attraverso le varie visite che ho compiuto nel luogo, come davvero un punto di riferimento, una speranza per tutti, perché dalle missioni partono davvero tutte le attività che vanno incontro, soprattutto alle persone che vivono grandi disagi e grandi difficoltà. Come ci si educa alla missione? Ma è un po' complicato. Educarsi alla missione significa, innanzitutto, secondo me, acquisire la consapevolezza della importanza del ruolo che noi svolgiamo in questo tipo di realtà. Quindi, non saprei, insomma, per noi la missione è un supporto fondamentale all'attività che noi laicamente portiamo in queste nostre esperienze. Insomma, quindi, è una domanda difficile dalla quale rispondere, nel senso che non c'è un approccio univoco, secondo me, al problema della missione. Io credo che noi dobbiamo considerare la missione come davvero un punto di riferimento dal quale non si può prescindere per il tipo di attività che noi svolgiamo, almeno in queste terre. Grazie a tutti.